La famiglia Cucchi ha aspettato 12 anni per avere giustizia. Allora, questo ci riporta un po' anche alla questione di prima, no? 12 anni in cui ha dovuto combattere, in cui le hanno detto di tutto, non è stato un processo facile, lei comunque... Ma lei sa che con questa riforma il processo di suo fratello non sarebbe giunto al termine? Esatto. Lei sa che sarebbe fermato? Il processo Cucchi non sarebbe mai celebrato? Vero. Lei lo sa questo? No, io l'ho chiesto perché appunto volevo... E allora domani mattina chiedete a tutti i parlamentari che stanno andando alle camere la sentenza Cucchi non ci sarebbe mai stata. Perché? Perché c'è il discorso del treno, no? Due anni, un anno. Lei sa quanto è durato il processo d'occhio? 12 anni. 7 anni di processi a vuoto, 12 anni in tutto, 7 anni che hanno devastato la mia famiglia, 7 anni dei quali si sono ammalati i miei genitori, perché i miei genitori si sono gravemente ammalati entrambi di questo, mica di altro. E non saremmo qui oggi, non saremmo mai arrivati alla verità se ci fosse in vigore questa legge. Esatto. Questo è l'esempio calzante. Io voglio tornare un momento da... Poi immaginate quando ci sarà il processo sul ponte di Genova, la funeria, eccetera, eccetera.